Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge sulle strutture di supporto agli organi di governo che definisce che i costi relativi all'introduzione della nuova figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale e all'ampliamento dell'ufficio di presidenza con la nomina di due segretari questori non graveranno sul bilancio regionale. Italia Viva ha deciso di non partecipare al voto, approvata a maggioranza anche la proposta di legge che definisce le incompatibilità del sottosegretario e disciplina i trattamenti economici del sottosegretario stesso e dei due nuovi segretari questori dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. La nuova figura di sottosegretario alla presidenza della regione toscana, istituita con modifica statutaria, non graverà sul bilancio. I costi saranno assorbiti rideterminando indennità e rimborsi spese. Lo stesso vale per i due nuovi membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che attualmente è formato da presidente, due vicepresidenti e due segretari. La proposta di legge prende le mosse dalla riforma dello statuto che prevede le figure del sottosegretario alla presidenza della regione toscana che ha la funzione di coadiuvare il presidente della Giunta nello svolgimento delle funzioni inerenti al suo mandato e dall'altro l'inserimento all'interno dell'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa delle due figure dei segretari questori che hanno invece la funzione di coadiuvare il presidente del Consiglio regionale nell'attività d'aula. Sì perché era già stato modificato lo statuto per prevedere la figura del sottosegretario oggi noi abbiamo approvato il trattamento e il personale di supporto che deve coadiuvare questa figura di sottosegretario una figura che esiste in tante regioni italiane dove amministrano o hanno amministrato un po' tutti i partiti sia di destra sia di sinistra sia i 5 Stelle quindi non si capisce perché da parte di alcuni c'è stata invece una contrarietà all'istituzione di questa figura è una figura che può risultare importante e molto utile per un migliore e maggiore collegamento tra i lavori del Consiglio e quelli della Giunta quindi è una figura che farà lavorare meglio entrambi i contesti e quindi a giovarne saranno i cittadini toscani perché se l'amministrazione pubblica aumenta la qualità è chiaro che aumenta anche l'efficacia e quindi aumentano anche le risposte che noi vogliamo dare è bene dire che per quanto riguarda le indennità non c'è nessun aumento perché il sottosegretario sarà un consigliere regionale ma anche per quanto riguarda l'aumento dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio non ci saranno aumenti perché come si suol dire il tutto è fatto a iso risorse vale a dire attraverso la riduzione dell'indennità degli attuali assessori per quanto riguarda il sottosegretario e di quanto riguarda gli attuali componenti dell'ufficio di presidenza per quanto riguarda i due segretari questori che entreranno per quanto riguarda invece il personale di supporto noi abbiamo inteso presentare un emendamento che è stato approvato per analogia tra il trattamento di un assessore e quello del sottosegretario per quanto riguarda il personale di supporto un assessore ha cinque persone a supporto tre interne quindi che già riscuotono a stipendio due esterne il sottosegretario ne avrà invece una in meno attraverso il nostro emendamento avrà tre persone interne e una esterna e più manterrà il supporto che ha nell'ambito del Consiglio regionale quindi anche sparare cifre come ho sentito anche in aula di centinaia di migliaia di euro di costi di personale di supporto intanto dico che sono comunque persone che avranno un lavoro ma si tratta semplicemente di un'unica persona esterna che si affiancherà a quelle che già ci sono per quanto riguarda il supporto al sottosegretario quindi noi pensiamo che con la votazione di oggi oggi il presidente Gianni quando vorrà potrà nominare questa figura che risulterà sicuramente preziosa per un miglior lavoro e una migliore efficacia dell'azione amministrativa da parte della giunta del Consiglio regionale La figura del sottosegretario come dell'allargamento dell'ufficio di presidenza laddove abbia una funzione di utilità in qualche maniera per il nostro lavoro e quindi per il lavoro che serve a tutti i cittadini ha un senso e quindi non siamo contrari in maniera ideologica quello che però troviamo inaccettabile è che in un momento storico come questo e soprattutto in una fase dove nel Consiglio regionale lamentiamo la carenza di dipendenti e personale per attività come Artea, Arpa quindi per tutti gli organismi che sono davvero di servizio e di supporto alle attività amministrative spendere mezzo milione di euro per dare un appannaggio, un supporto a delle figure che sono eminentemente politiche mi viene da dire che il sottosegretario ha lo stesso appannaggio di personale di un assessore quel non assessore che con tanta energia Eugenio Gianni ha cercato all'epoca per i suoi equilibri interni della maggioranza ecco riteniamo che sia una cosa scorretta riteniamo che non sia l'atteggiamento con cui ci si dovrebbe approcciare alla politica e anche alla gestione delle nostre attività noi lo ripetiamo non siamo contrari ideologicamente a quello che sia l'aumento delle nostre attività però ci sono delle considerazioni che devono essere fatte riguardo alla sobrietà delle spese al fatto che in questo momento la Corte dei Conti ci ha più volte bacchettato per l'utilizzo che è stato fatto soprattutto negli uffici di presidenza del personale abbiamo ancora una questione aperta con tutti i lavoratori del Consiglio regionale che sono al servizio davvero di tutta la comunità e che in questo momento stanno avendo dei problemi proprio da questo punto di vista quindi riteniamo che sia sbagliato il modo con cui viene data le gambe la riforma statutaria e le cifre spropositate e il momento storico pessimo Sì, abbiamo votato convintamente a favore del sottosegretario della Presidenza lo abbiamo sempre detto riteniamo che sia una figura utile perché in questi due anni e mezzo ormai di mandato abbiamo devo ripartire? Ah no, perché ho sentito che ti ho fatto riparto Siamo favorevoli abbiamo votato convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario perché in questi due anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente e l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio nelle varie commissioni nella presentazione di proposte di legge quando parlavamo di bilancio di ambiente, di lavoro, di sanità e quindi riteniamo che la figura del sottosegretario auspicando che questa nomina avvenga ripetendo che è a costo zero quindi a invarianza di costi per la politica venga nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza che comunque ha anche delle corsie preferenziali dei rapporti preferenziali con la Giunta ma soprattutto l'opposizione nel capire purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito quali siano le strategie del Presidente e della Giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve come per esempio il piano dei rifiuti il piano dell'aria il piano dell'acqua e anche tutto il tema sanità che a noi ci sta molto al cuore spesso si parla anche di mancanza di risorse in tema di bilancio ecco noi vorremmo avere una figura all'interno del Consiglio regionale con cui rapportarci quotidianamente per avere una serie di risposte che molto spesso mancano da parte della Giunta per noi è utile lo era inizio della legislatura quando nel 2020 Eugenio Gianni annunciò per la prima volta la necessità di fare di istituire questa figura tante regioni guidate dal centro-destra già la prevedono per noi è utile una figura ovviamente a costo zero tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale ma se è scelto all'interno del Consiglio regionale quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini che ci sia una figura che faccia dal raccordo politico tra la Giunta e il territorio cioè assolutamente per noi è utile poi in realtà non abbiamo capito se è utile o meno per il Partito Democratico perché hanno aspettato due anni e mezzo a portare la legge in votazione all'Aula lo hanno portata dicendo al termine di un congresso di un'assemblea regionale del Partito Democratico cinque mesi fa quando il Presidente Gianni venne chiesto se avrebbe o meno istituito questa figura e l'ha derubricata a una figura necessaria a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta quindi se serve a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta ci sembra un po' una forzatura e alla fine il nuovo eletto segretario regionale Fossi poco più di dieci giorni fa ha detto che non è adesso il tempo di istituire il sottosegretario ad oggi non ci serve quindi non capiamo perché il Partito Democratico abbia voluto per forza votare questa Roma in Aula se non serve a loro non abbiamo votato contro per questo la polemica non è sulle spese perché se la politica spende per creare posti di lavoro noi non è che siamo contrari cioè se si spende la figura del sottosegretario costa 50 mila euro in più spieghiamolo anche a chi ci ascolta questi 50 mila euro non vanno in tasca al sottosegretario 50 mila euro l'anno servono per pagare un professionista che oggi non lavora in Regione Toscana che dopo invece lavorerà in Regione Toscana e svolgerà lavori di segreteria politica quindi è una persona a cui noi diamo un posto di lavoro quindi non è un costo della politica il tema è prettamente politico cioè il segretario regionale del Partito Democratico dice non ci serve non capiamo perché lo abbiano istituito se non ci serve ma su questo noi fin dall'inizio abbiamo fatto una battaglia di carattere politica siamo stati gli unici ad essere contrari a istituire un nono assessore a istituire due sottosegretari ad aumentare l'ufficio di presidenza da 5 a 7 persone 5 cariche politiche che a nostro avviso sono eccessive su questo ci siamo abbiamo portato avanti una battaglia politica in primis io in solitario anche il mio partito ma anche poi alla fine anche altri consiglieri e continuiamo nella nostra coerenza siamo ormai arrivati a metà del mandato riteniamo eccessivo un appesentimento dei costi della politica anche in un momento molto delicato di crisi economica di difficoltà del personale dipendente c'è un contenzioso aperto con le organizzazioni sindacali c'è un'avvertenza molto delicata tante sono le avvertenze anche nel mondo del lavoro e quindi crediamo che in questo momento abbiamo chiesto di soprassedere perché a nostro avviso non è opportuna si è visto che in due anni e mezzo di mandato come abbiamo espresso anche peraltro un giudizio positivo sull'operato della giunta in questa prima metà del mandato si possa proseguire in quella direzione siamo stati coerenti non abbiamo partecipato al voto perché ritenavamo che questo non fosse opportuno noi siamo convinti che la dotazione di otto assessori 41 consiglieri e 5 persone in ufficio presidenza sia ampiamente sufficiente per svolgere le funzioni sia di carattere politico che di carattere di rappresentanza che di carattere amministrativo e come tali siamo stati coerenti in una battaglia che non vuol dire venire meno a un impegno di maggioranza ma vuol dire come Italia Viva essere coerenti fino in fondo con gli impegni che noi abbiamo preso con i cittadini al momento in cui siamo stati eletti Il Consiglio regionale ha approvato la terza variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 con 32 voti a favore e il voto contrario del Movimento 5 Stelle a fronte di entrate extra pari a 51.238,93 euro è stato deciso di implementare i capitoli missioni all'estero dei consiglieri per 16.238 euro e le spese di missione del personale del Consiglio regionale per 25.000 euro 10.000 euro sono stanziati per integrare le risorse del Parlamento regionale degli studenti in vista di una loro possibile missione a Bruxelles la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi ha chiesto conto della cifra prevista nella variazione per le missioni all'estero dei consiglieri chiedendo perché fosse così dettagliata trattandosi di una previsione di spesa la consigliera del Movimento 5 Stelle ha poi aggiunto di aver fatto delle richieste di accesso agli atti sulle spese di alcuni membri dell'ufficio di presidenza nelle loro missioni non all'estero ma a cortina documenti che le sono stati rifiutati dovendo ricorrere al difensore civico per averli il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha replicato che qualunque spesa viene segnalata agli uffici verificata e alla fine chiunque può fare richiesta di verifica mentre per quanto riguarda le missioni all'estero la copertura è necessaria perché altrimenti non possono essere effettuate missioni istituzionali riguardo al bilancio di previsione dell'ufficio di presidenza abbiamo presentato le nostre le nostre domande in quanto non facciamo parte dell'ufficio di presidenza e abbiamo ricevuto una risposta piccata non soltanto dal presidente del Consiglio che ignorava la nostra richiesta di accesso agli atti ci siamo dovuti rivolgere addirittura al difensore civico in quanto non ci rispondono ma al di là di questa piccola diatriba che è facilmente risolvibile sono stata attaccata personalmente dal consigliere di Fratelli d'Italia Diego Petrucci che è assente in aula è piombato nella discussione senza aver sentito il mio intervento si è sentito attaccato personalmente e ha reagito in modo scomposto e poco elegante invitando la sottoscritta a lavorare di più in quanto io a mezzogiorno o alla sera sarei uscita secondo lui per andare a buttare la pasta mentre lui rimane a lavorare ecco io credo che questo atteggiamento sia un atteggiamento sessista maschilista sintomo di una mentalità retrogada a cui si aggiunge anche la derisione del termine consigliera con varie declinazioni inesistenti della lingua italiana giusto per prendere in giro tutte le donne che vogliono invece giustamente farsi appellare con il giusto femminile è intervenuta anche l'assessora Monni che ringrazio per la difesa e la sensibilità anche lei ha subito in passato attacchi sessisti dal centro-destra quindi credo che questo sia sintomo gravissimo di come è la loro visione del mondo e che debba essere contrastata sono molto curiosa di sapere cosa ne pensa il presidente del consiglio Giorgia Meloni la quale appunto forse non è al conoscenza dell'atteggiamento dei suoi rappresentanti in consiglio regionale di Grazie a tutti.